Il significato della mostra di questi giorni è far conoscere anche qui nel nostro territorio queste magnifiche eccellenze che abbiamo sul territorio Brianzolo, come l'Ecco, la provincia che rappresentiamo, sono arredi che solitamente girano per tutto il mondo. Quindi venire qui nel palazzo del Ministero del Made in Italy a rappresentare la bellezza, a saper fare dei nostri artigiani è secondo noi una cosa fondamentale che tutto il nostro territorio ci deve riconoscere. Sul territorio Comasco oltre a questa eccellenza abbiamo anche, come l'Ecco e Milano, il salone fondamentale per il nostro prodotto dell'arredo che è il Salone del Mobile di Milano, Fiera Internazionale che aiuta i nostri produttori a espandersi in tutto il mondo. Sul nostro territorio Comasco stiamo facendo una cosa più piccola che è il fornitore offresi del legno per poter rilanciare ancora questi nostri prodotti.